Grazie a questo ingrediente avremo delle labbra gonfie, e polpose senza aver bisogno di passare dal chirurgo plastico. Ecco di quale si tratta. Sebbene ognuno ha modo suo ha una bellezza particolare, e ognuno può piacere a qualcuno secondo i gusti, ci sono alcuni canoni che sono stati imposti dalla società affinché qualcuno sia oggettivamente riconosciuto come bello. La maggior parte delle persone che hanno una bellezza indiscutibile, lavorano nel mondo della moda e prestano la loro immagine per tantissime riviste e per alcuni stilisti mostrando il loro physique du rôle. Labbra. Come Rimpolparle con un ingrediente naturale altri, invece, preferiscono il cinema e la televisione, per questo quasi tutte le conduttrici televisive e gli attori che vediamo sul piccolo e sul grande schermo sono oltre ad essere professionali nel proprio lavoro anche molto belli. Questo perché specie nel loro lavoro, l'immagine è molto importante, e non bisogna sorprendersi se alcuni di questi, specie le donne, si sottopongono a dei ritocchimi con l'andare avanti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Un metodo che è efficace ma deve essere usato con parsimonia, anche perché qualora funzioni e dobbiamo baciare qualcuno, il bacio potrebbe essere piccante non solo per la passione che ci mettiamo ma anche per via del suo sapore. Quindi, prima di decidere di spendere soldi per una seduta di filler, se non necessario, potete provare questo metodo e per poche ore sentirvi come se fosse passati dal chirurgo. Grazie a tutti.